Samantha Isai al Museo Egizio di Torino ha realizzato un'applicazione reale e concreta del Thinking Design sulle videoguide, un argomento che interessa milioni di visitatori. E' così. Dunque noi avevamo un problema importante rispetto alla multimedialità utilizzata nel nostro museo perché è consegnata universalmente al nostro pubblico. La votazione ricevuta dalla nostra multimedialità era mediamente bassa perché era un 6.8, abbiamo individuato il problema e lo abbiamo risolto attraverso una metodologia di lavoro che ha impattato su tutto il personale per andare ad individuare la nuova videoguida e o audioguida che vorremmo consegnare sempre universalmente al nostro pubblico attraverso questo percorso di Design Thinking. Quindi prossimamente pubblicheremo un nuovo bando di gara e il capitolato è completamente basato sui risultati di questo percorso metodologico importantissimo che è nella verità risultato di un lavoro fatto con tutta la squadra, quindi coinvolto tutto il personale per un obiettivo comune.